Coach Mura, un compleanno festeggiato dei milioni di modi? Sì, 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 le ragazze mi hanno regalato una buona partita, abbiamo volato a casa questi due punti, insomma, a prescindere le battute era importante continuare la serie di vittorie e finire bene il girone di andata, lo abbiamo fatto, non una super partita, ma penso che abbiamo gestito sostanzialmente da, a parte i primi 3-4 minuti, eravamo sempre in controllo e questo va bene. Ecco, analizziamo questo girone di andata che si è andato a concludere proprio oggi e tracciamo un bilancio che vi vede attualmente al primo posto. Sì, diciamo, primi o terzi, secondo come lo vogliamo vedere, l'importante è che nonostante i tanti infortuni, le tante magagne fisiche che hanno contraddistinto queste prime 15 giornate, abbiamo trovato una buona continuità di rendimento e dei risultati, non abbiamo fatto passi falsi e adesso con la responsabilità della posizione classifica dobbiamo giocare il girone di ritorno consapevoli delle nostre potenzialità.